Si riapre in maniera concreta la pista che porta al nuovo ospedale di Giulianova. Dopo le polemiche delle scorse settimane con la Regione, oggi il sindaco della cittadina Giuliese Francesco Mastromauro ha spiegato in conferenza stampa cosa sia cambiato nelle ultime ore. Prendiamo atto che l'impegno assunto dall'assessore Silvio Paolucci è stato mantenuto, nel senso che, come si legge qui, è stato confermato nella delibera dell'Aggiunta regionale numero 742 adottata il 15 novembre 2016 e pubblicata in data odierna, confermato pertanto che gli interventi proposti sono i seguenti, realizzazione dei nuovi ospedali di Avezzano, Giulianova, Lanciano, Summona e Vasto, in sostituzione di quelli esistenti e poi rilevato che la realizzazione dell'ospedale di Giulianova resta sospesa, quindi si dà atto che la realizzazione ci sarà, ma resta sospesa e condizionata alla definizione dell'iter acquisitivo della proprietà del sedime, benché già individuato da parte del Comune di Giulianova, e io l'ho ricordato più volte, il Comune di Giulianova è stato il primo Comune a individuare l'area, addirittura con delibera dell'8 settembre 2015. Quindi la Regione è d'atto che il Comune di Giulianova ha adempiuto a tutti i suoi obblighi, che l'ASL di Teramo non ha completato l'iter acquisitivo dell'area dalla stessa individuata, dall'ASL, fra quelle 5 che noi avevamo proposto nel 2011, e che l'erogazione del finanziamento adesso è condizionata al completamento dell'iter da parte dell'ASL. Un primo risultato è stato raggiunto, ma da qui si parte, perché adesso noi solleciteremo da subito l'ASL a completare l'iter.